30 anni di impegno umanitario di Emergency, associazione italiana indipendente neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite ed elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine anti-uomo e della povertà in ben nove paesi del mondo. Emergency promuove una cultura di pace e solidarietà e rispetto dei diritti umani. Atti di gentilezza, clean-up di parco Don Tonino Bello, appoggio Franco Bari, ma anche gesti simbolici nel corso dei festeggiamenti. I bambini che partecipano a queste attività e che fanno atti di gentilezza, ripuliscono ogni tanto il parco, lo ripuliscono da queste scritte come lo abbiamo fatto noi, hanno diritto a un bigliettino, poi tra un po' faremo l'estrazione, chi vince vincerà un pallone, uno di questi palloni. Oltre momenti culturali, sportivi e ludici, in condivisioni con altre organizzazioni del territorio che hanno ribadito il valore della collaborazione e della responsabilità sociale per far rete e promuovere l'associazionismo locale. Attraverso i suoi ospedali, ambulatori e programmi di assistenza, l'associazione ha curato oltre 13 milioni di persone, offrendo non solo interventi chirurgici ma anche supporto psicologico e formazione sanitaria, alimentando così un ciclo virtuoso di cure e prevenzione, sancendo l'importanza di un impegno comune, quello di costruire un mondo in cui la salute e i diritti fondamentali siano accessibili a tutti, senza distinzione.